Il titolo del dipinto è Uomo seduto scomposto. L'autore è Pietro Di Segna. È stato realizzato con tecnica d'olio su tela nel 2018. Misura 100 x 80 cm. In questo dipinto l'astrazione delle forme del soggetto è servita a creare delle masse cromatiche che si coordinano in modo compatto. Di riconoscibile c'è solo un occhio rosso di profilo, la sedia rossa vista di profilo, una porzione di naso in azzurro a sinistra del dipinto, forse una scarpa fusa sotto la sedia. La colorazione della figura in primo piano è dominata da grandi campiture di colori freddi come verdi, blu, azzurri e qualche pennellata di giallo. Tutta la composizione del dipinto risuona grazie al quadrato rosso determinando equilibrio e tensione allo stesso tempo. Il fondale arancione riscalda e contiene l'uomo seduto scomposto.